Anticipare le restrizioni per evitare la terza ondata. Traspare la linea dura dalle parole del Ministro della Salute Roberto Speranza. Obiettivo quello di attenuare l'impennata dei contagi, così come sta accadendo nel nord Europa. Domani prevista la cabina di regia ministeriale, nella quale potrebbe essere decisa per la prossima settimana la zona arancione per quasi tutta Italia, Abruzzo compreso. Ieri sera intanto è stato firmato un nuovo decreto, in cui si conferma il divieto di spostarsi da una regione all'altra, anche tra regioni in zona gialla, salvo che per motivi di salute, lavoro o necessità. Quest'oggi in Abruzzo è il 6% dei 4.244 tamponi processati ad aver dato esito positivo per 258 nuovi casi che riguardano persone d'età compresa tra 1 e 97 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, di cui due fanno riferimento a morti avvenute nei giorni scorsi e comunicate solo oggi dalle ASL. Gli ultimi decessi riguardano persone d'età compresa tra 69 e 95 anni, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell'Aquila. Il bilancio complessivo dei deceduti è di 1.309. 282 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo sono 11.180 ai positivi accertati, meno 36 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 453 pazienti, meno 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40 con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.687, meno 21 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I numeri del virus in Abruzzo sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Grazie. Grazie. Grazie.